Allora questo dicevamo è Berlusconi, l'avete visto mercoledì, intanto voi lo voterete o lo votereste come Presidente della Repubblica? Io dico come la penso per la prima volta con assoluta serietà e sincerità, se per votarlo come candidato di bandiera credo che sarebbe un errore e un insulto, o Berlusconi ha davvero scianze di poter fare il Presidente della Repubblica e lo voto, oppure dobbiamo pensare a ipotesi B e C eventualmente? Le posso fare queste obiezioni, al di là del giudizio che lei fa benissimo ad avere se ritiene positivo di Silvio Berlusconi, ma se lo immagina un Paese con un Presidente della Repubblica con una persona condannata a torto ragione per frode fiscale, braccio destro Marcello Dell'Utri per fatti di mafia, sinistro per corruzione giudiziaria, assolto dal bunga bunga ma con tutto il mondo che lo ricorda ancora per il bunga bunga, come potremmo presentare noi quest'uomo all'estero come Presidente della Repubblica? Ma guarda, siccome io proprio in questi giorni ho sentito il capo della sinistra parlare molto bene di Berlusconi e rivalutare Berlusconi, se lo rivaluta lui vuole che non lo possa valutare io che penso che c'è stata molta strumentalizzazione contro di lui, lo chieda a Letta. Grazie Grazie Grazie